Organizzata a Vicone Lazio la giornata del microchip voluta dall'Accademia Kronos di Frosinone con il patrocinio del Comune. L'evento si è svolto ieri ed ha avuto lo scopo di microchippare i cani che non sono iscritti alla ASL. L'associazione sta facendo questa campagna di microchippatura gratuita in tutta la provincia di Frosinone con lo scopo di dare un nome a tutti gli amici a quattro zampe che sono residenti in Ciociaria. L'evento è infatti partito dal Comune di San Vittore nel Lazio e si sta estendendo, toccando numerosi centri grazie ad un accordo con l'ASL provinciale e la Regione Lazio. La gente sta rispondendo molto bene a questa iniziativa, infatti solo a Vico ci sono stati 130 cani registrati. Questo permetterà in caso di smarrimento di rintracciare il proprietario dell'animale e riconsegnarglielo. L'evento di ieri non riguardava però solo il Comune di Vico ma era aperto anche ai cani dei paesi limitrofi poiché è una lotta contro il randaggismo. Il sindaco di Vico nel Lazio, che è stato presente all'iniziativa, si è detto molto soddisfatto. Il CIP di riconoscimento è un obbligo di legge da alcuni anni ed è l'unico modo per poter ritrovare e identificare un cane smarrito o rubato. Inoltre, dice, è un'applicazione assolutamente indolore per l'animale. La registrazione di 130 cani è un grosso risultato contro il randaggismo, afferma ancora il primo cittadino e da oggi nel nostro Comune si potranno facilmente identificare i nostri amici a quattro zampe e riportarli ai propri proprietari. Il prossimo evento che l'Accademia Cronos farà si svolgerà domenica prossima nei pressi della stazione di Fiuggi. Dunque oggi siamo a Vico nel Lazio per microcippare i cani che non sono iscritti alla ASL. Noi stiamo facendo questa campagna di microcippatura gratuita in tutta la provincia di Frosirone. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Lo scopo dell'iniziativa è che c'è il rispetto della legge per la 189 del 2004 e l'obbligatorietà del microchip per gli animali di affezione, i cani che vengono detenuti in casa. Lo scopo dell'iniziativa è dare un nome a tutti gli animali che sono residenti in questo comune. Che cosa significa? È una lotta contro il randagismo anche perché c'è la legge che è obbligatoria nella microcippatura del cane.